Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più la ami L'idea del Vostok nasce circa 5 anni fa, Vostok 100k ne ho parlato ampiamente in questi anni, Vostok dalla navicella spaziale di Yuri Gagarin 100k perché sono 100.000 i chilometri del mio giro del mondo ideale 5 anni fa nasce l'idea folle di cambiare un po' vita, prendere questo camper del 1982 e iniziare a viaggiare e a raccontare i viaggi in questi 5 anni il Vostok nonostante la veneranda età si è fatto rispettare e ha percorso molti chilometri, fondamentalmente su strade secondarie anche perché insomma il Vostok fa 70-80 quando si trova a favore di vento 80 km orari quindi senza senza utilizzare il GPS però appunto questo fa parte della filosofia del viaggio Vostok, cioè un viaggio lento alla ricerca di storie sulle strade secondarie perché appunto se vai lentamente è inutile prendere le autostrade ma soprattutto se prendi strade secondarie è più facile imbattersi in storie particolari, fare incontri, fermarti pure semplicemente in un paesino di provincia per chiedere informazioni in un bar e ritrovarsi la sera a cena a casa di qualcuno o il giorno dopo a visitare qualche posto e magari restare in quel posticino isolato per più tempo, posticino che non avresti mai conosciuto o visitato se avessi preso le autostrade o le strade principali. E nei viaggi che ho percorso a bordo del Vostok mi è capitato di incontrare tantissima gente chiaramente, persone di tutti i tipi. La cosa che ti colpisce di più e questo lo riscontro pure nelle domande che spesso mi fanno gli amici quando ritorno, la paura degli incontri, mi dicono ma non hai paura? E io rispondo sempre se vogliamo dovrebbe essere la gente che mi vede attraversare il proprio paese, la gente che mi vede fermo nel proprio paese dovrebbe, sarebbe più legittimata ad aver paura di questo che si ferma con questo camper vecchio, con questo barbone. Però appunto il fatto è proprio questo, ognuno è lo straniero dell'altro. Eppure, quindi ritornando alla domanda, quello che ho potuto riscontrare è stato sicuramente un senso di ospitalità generalizzato da parte della gente. Nell'antichità i viaggiatori erano sacri perché portavano le notizie da un posto all'altro. Quando moriva un re, scoppiava una guerra, spesso lo si sapeva dopo due anni quando passava il viaggiatore in quei luoghi. Quindi l'ospite era sacro. In molte mitologie il viaggiatore è considerato messaggero degli dèi perché portava appunto questi messaggi. Quindi viaggiando ti rendi conto che sicuramente, soprattutto viaggiando lentamente, il mondo è più grande e ci sono più cose che oggi dovremmo sapere in questo periodo in cui la gente ha paura degli stranieri, in questo periodo in cui si vive questa sorta di invito alla chiusura rispetto alla gente. Beh, devo dire che la magia più grande di questo tipo di viaggi sta proprio nel fatto di incontrare sempre gente che ti accoglie, che ti ospita e che ti racconta le proprie storie. Quindi incontri, incontri fondamentalmente sempre positivi. Poi insomma io mi affido al mio personalissimo dio del viaggio dell'anno scorso, sperando che non accada mai nulla di male, però le cose cattive ti possono accadere pure se resti a casa. Incontri un pochino di tutti i tipi, nel viaggio dell'anno scorso, nel giro d'Europa a bordo del Vostok, che so, sono stato alle frontiere dove c'erano la frontiera per esempio fra Serbia e Ungheria chiusa ai migranti, o sono stato per esempio al nord in Danimarca, dove ho incontrato le anatre che migravano verso i posti caldi alla fine dell'estate. È un incontro, è sempre magico, perché lasci qualcosa e ti lascia qualcosa, quindi di conseguenza viaggiare, incontrare gente è sempre un arricchimento e i viaggi a bordo del Vostok sicuramente sono la più grande esperienza personale che io abbia fatto nella mia vita. Chiaramente ognuno ha le proprie esperienze personali, ognuno ha la propria esistenza, per cui lanciare dei messaggi è un pochino pesante. Quello che io posso dire è sicuramente che, allora, nel mio caso io sono riuscito, sto riuscendo più o meno a trasformare tutto questo nel mio lavoro, nel corso di questi cinque anni, non è stato semplice e non è ancora tuttora semplice quello che io faccio, però sicuramente la cosa che potrei sentirmi di dire si basa sul fatto che spesso la gente crede che io sia ricco, spesso la gente crede che io abbia tempo da perdere, spesso quando parlo con la gente tutti quanti mi dicono, eh ma non c'è tempo, ci vogliono i soldi, ci vogliono... Non è vero, non è vero, perché io quando sento che magari uno va a fare una crociera e spende una deter... certo, per carità, senza nulla tollerare le crociere, no? Però una settimana di crociera io con il Vostok ci faccio 20 giorni, ho viaggiato, ho fatto molti viaggi in bicicletta e non avevo soldi, magari facevo qualche lavoretto estivo, non avevo soldi, mettevo, mi mettevo lo zaino in spalla, oppure caricavo tutto quanto sulla bici e partivo, partivo all'avventura. Quindi per concludere appunto, quello che io posso dire è che tante volte le difficoltà maggiori o gli impedimenti rispetto a tutta una serie di problematiche rispetto alla possibilità di partire proprio, sono nella testa. Io dico che appunto un viaggio di mille miglia si dice inizia con un passo, io dico che tante volte bisogna iniziare a fare il primo passo, poi ti rendi conto che magari andare a fare un viaggio e andare a spendere 50 euro in una discoteca o andare a spendere 40 euro a un ristorante, è chiaro che il viaggio dura di meno, poi per carità se uno si vuole divertire e vai in viaggio per divertire, per divertirsi è giusto che lo faccia, però se uno vuole viaggiare, se uno vuole imparare, se uno vuole conoscere, vuole scoprire, vuole incontrare gente, non c'è bisogno di molti soldi, quello che serve è semplicemente uno spirito di iniziativa, capacità di adattamento e immaginazione e soprattutto sapersi adattare, perché con i pochi soldi che hai puoi avere in cambio tantissimo e sicuramente pure quei pochissimi soldi sono un investimento sicuro perché quello che te ne deriva è quanto di più grande uno possa guadagnare nella vita, cioè l'incontro, la conoscenza, il viaggio in senso lato. Radio doppio zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami.